Una vittoria agrodolce, quella della SIECO. Ieri sera, nel primo match del 2019, gli impavidi superano al tie-break Grotta Zolina, trascinati dal pubblico amico, ma i due punti non sono sufficienti per agguantare il quarto posto, distante ora a due lunghezze ed occupato proprio dal team marchigiano a braccetto con il Catania. Il successo è comunque importante perché ottenuto contro un avversario forte e poi, in fondo, l'obiettivo quarto posto è ancora a portata di mano. Inoltre, la SIECO, nel corso del match, si è trovata a fronteggiare l'infortunio di uno dei suoi uomini migliori, Ludovico Dolfo. Lo schiacciatore, così come avvenuto all'andata in terra marchigiana, cade male nel corso di un'azione di gioco, riportando un problema alla caviglia che lo costringe la resa. Il tutto avviene nei primi scambi del quinto setto, ovvero in un momento decisivo del match. In campo fa il suo ingresso Mattia Sorrenti e subito si capisce che il ragazzo è in serata. Con il suo servizio insidioso mette in seria difficoltà la ricezione ospite e anche in attacco è efficace. I suoi quattro punti saranno pesantissimi in un set che si ferma a 15. La SIECO dunque conquista due punti molto importanti e continua la sua rincorsa alla permanenza diretta in Serie A2. Prossima gara sempre in casa, domenica 13 con inizio alle 18 contro Taviano.